la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon lunedì a tutti ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News passiamo subito a sfogliare le pagine dei quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale ancora si parla delle ricerche dei terroristi che hanno assaltato Parigi e nei giorni scorsi quindi continuano le ricerche continuano nel Belgio andiamo infatti a Bruxelles assedio ai killer blitz della polizia nel centro della capitale sei giadisti arrestati uno ferito il super ricercato Salah è intercettato a Liegi Obama distruggeremo l'Isis Cameron in campo attacchi in Siria prima di Natale andiamo avanti sempre con gli articoli correlati il flop, corteo anti-Isis dove sono i musulmani e poi l'analisi se l'Europa debole regala Putin il Mediterraneo per quanto riguarda invece la storia Valeria è morta dissanguata tra le braccia del fidanzato lasciamo questo tema ci spostiamo di spalla si parla delle prossime elezioni amministrative a Napoli abbiamo visto nei giorni scorsi l'annuncio da parte di Bassolino pronto a ricandidarsi alla carica di sindaco del centro partenopeo e vediamo il titolo Bassolino sfida il PD Lotti la scelta spetta ai cittadini in vista delle comunali di Napoli il commento primario e il rischio di un gioco a perdere di taglio alto lo sport sorpasso stupendo Insigne e Higuain firmano il 2-0 a Verona gli azzurri scavalcano la Roma e sono secondi il punto il passo dei grandi ora contro l'Inter in gioco il primato e poi contro campo se il ragazzo del Vesuvio violava i razzisti di taglio basso il governo vara il piano salvabanche il decreto da 3,6 miliardi di euro dopo il via libera dell'Unione Europea e ancora il 23 novembre del 1980 poi oggi 23 novembre 2015 terremoto ora ricostruire il futuro la cronaca schianto a fuorigrotta due moto contro un'auto muore un giovane di 22 anni questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo avanti andiamo nelle pagine di primo piano parliamo delle elezioni politiche delle elezioni scusate delle elezioni amministrative a Napoli abbiamo visto che Bassolino ha annunciato la volontà di candidarsi alla carica di sindaco ma arriva lo stop da parte del partito democratico e vediamo il titolo Bassolino di corsa verso il voto Gelo PD sono voci anonime l'ex governatore snobba lo stop del Nazareno mi sto organizzando la replica perché dovrei inseguire un giudizio di chi non ci mette la faccia vediamo una corsa la prima da candidato ufficiale sotto la pioggia a Mergellina con i saluti di altri runner che lo riconoscevano nonostante il cappellino calato sulla testa risultanza per la vittoria degli azzurri di Sari a Verona la festa di compleanno per il nipotino romano che compiva cinque anni e che ha avuto in regalo un libro di favole la promessa che la prossima settimana sarà a Roma e gliela leggerà domenica autunnale tutta a casa a hobby e famiglie tv satellitare come un comune pensionato come se non fosse Bassolino che non riesce ad acquietarsi giornata solo apparentemente tranquilla perché è stata in realtà tempestata da telefonate sms e messaggi sui social network che hanno cominciato a rincorrerlo nel pomeriggio di sabato andiamo avanti andiamo nella pagina successiva vediamo il retroscena ancora no di Renzi ma Lotti rinvia le primarie il braccio destro del premier apre con le urne con le urne sceglieranno i cittadini e poi a Milano Berlusconi congela a Sallusti in attesa dei sondaggi grillini il cavaliere elogia i volti noti dei 5 stelle perfetti di Battista e Di Maio e poi il punto di vista dell'ex governatore della campagna Stefano Caldoro sulla volontà di Bassolino di candidarsi a Napoli vediamo infatti le parole di Caldoro la rottamazione è fallita è giusto che l'ex sindaco ritenti Antonio ha avuto momenti di buona amministrazione e anche grandi fallimenti nel socco di De Luca tornano dunque in auge personaggi che fanno parte della stessa generazione e hanno una storia in comune lasciamo le pagine della politica andiamo avanti andiamo sul decreto del governo vediamo il credito salva banche arriva la ciambella del governo CDM convocato di domenica per Cari Ferrara Banca Marche Carichieti e Popolare dell'Etruria tra gli istituti c'è anche quello in cui il padre del ministro è vicepresidente sono bastati solo 15 minuti al consiglio dei ministri convocato di domenica per licenziare il decreto necessario per salvare quattro banche in crisi l'Etruria la Carl Ferrara la Carichieti e Banca Marche e stendere una rete di sicurezza sui risparmiatori degli stessi istituti il ministro Maria Elena Boschi impegnata all'inaugurazione a Milano non ha partecipato alla riunione anche per evitare polemiche sul possibile conflitto di interessi considerato che il padre è vicepresidente di una delle quattro banche salvate e andiamo avanti rientro dei capitali 90.000 le domande per l'emersione di taglio basso è stato ha vinto un italiano alle elezioni in Argentina è quindi un italiano trapiantato in Argentina il nuovo presidente dell'Argentina vediamo Argentina sfida tra oriundi italiani vince Macri è il nuovo presidente ballottaggio storico e leader della coalizione Cambiemos trionfa sul leader peronista Maurizio Macri ha vinto il ballottaggio ed è il nuovo presidente dell'Argentina lo annuncia la rete tv 5cn poco dopo la chiusura delle urne ricordando che il leader della coalizione di centrodestra Cambiemos ha battuto il candidato peronista Daniel Scioli subito dopo la chiusura dei seggi nel bunker di Cambiemos allestito nel centro Costa Salguero a Buenos Aires sulla scia dei sondaggi degli exit poll che danno un distacco consistente scattato un clima di feste simpatizzanti del macrismo saltano ballano e urlano Maurizio presidente diverso invece il clima nel quartier generale di Scioli vediamo un ritratto del nuovo presidente dell'Argentina Macri liberale e fautore di programmi marcatamente pro business ha durante la campagna elettorale attaccato duramente il kirchnerismo il peronismo di sinistra al potere da 12 anni diversa la situazione sull'altro schieramento in corsa quello del peronista andiamo avanti allora la prova del K.O. al peronismo e dell'ascesa a Cambiemos si è avuta nel cuore economico del paese cioè nella provincia di Buenos Aires dove si è imposta Maria Eugenia Vidal 42enne stella nascente del macrismo forse la vera sorpresa di questa storica tornata elettorale in Argentina siamo molto molto felici hanno affermato dallo staff di Maurizio Macri da oggi alla casa Rosada e lasciamo queste pagine andiamo avanti andiamo ora sulle pagine del mattino di Salerno in apertura alla politica si parla della spaccatura all'interno del partito democratico dopo la scelta dei nomi della segreteria all'indomani dell'inchiesta aperta dalla procura di Roma vediamo il titolo scontro PD Landolfi chiama Guerini l'ite sulla segreteria il leader provinciale scrive al vice di Renzi territori non rappresentati a fondo contro la tartaglione sempre più inadeguata ruolo le sue scelte creano nuovi problemi intanto per il centro-destra Forza Italia vertice sulle liste la decisione sull'estrazione politica del candidato sindaco di Salerno verrà presa a Roma dai dirigenti nazionali di Forza Italia fratelli d'Italia alleanza nazionale e noi con Salvini e andiamo avanti riflessioni il gioco dell'insulto che conviene a tutti mentre per le polemiche di fondo Udc cobellis sfida inverso a Battipaglia e poi Tremonti nel Valdiano inopportuno queste per l'incontro tenutosi a Monte San Giacomo le polemiche avviate dal Codacons Vallo di Diano andiamo di spalla il giubileo Francesco un'udienza per i fedeli salernitani non sarà Papa Francesco a visitare Salerno tra agosto e settembre del 2016 ma saranno i fedeli salernitani a recarsi a Roma per un'udienza speciale concessa sabato 30 aprile magari in quell'occasione sarà possibile strappargli la promessa di un futuro viaggio nella città di San Matteo per pregare sulla tomba dell'Apostolo a centro pagina per lo sport salernitana maledizione tuia rischia un altro intervento e poi si torna sul lucido artista linea dura contro i bus fuori legge assalto dei pulman turistici in aree non autorizzate continuiamo per la mobilità l'ira dei residenti violate tutte le regole e poi la violenza ai servizi sociali dopo gli abusi torna in carcere questa è la prima pagina del mattino di Salerno andiamo avanti andiamo nelle pagine interne parliamo proprio della politica in particolare partiamo con le polemiche all'interno del partito democratico PD scontro sulla segreteria ora Landolfi chiama guerini mortificati territori l'azzeramento crea nuove condizioni e poi il caso lettera al vice di Renzi province escluse equilibri da rivedere di taglio basso Bassolino e De Luca le liti appartengono al passato da meglio stiamo simo e rispetto il presidente della regione un combattente come Antonio andiamo nella pagina successiva parliamo ora invece del centrodestra per le comunali centrodestra in ordine sparso Forza Italia mette mano alle liste oggi primo incontro sul candidato sindaco si attende l'input da Roma la leader di Forza Italia Mara Carfagna campagna immobile la regione paralizzata dalle vicende personali e giudiziarie di De Luca Antonio Iannone il presidente regionale e candidato in pectore di Fratelli d'Italia sta già lavorando la formazione della lista e poi Raffaele Volpi vicepresidente di noi con Salvini sarà a Salerno il primo dicembre per dettare la linea di taglio basso Ludici di Cobellis riparte da battipaglia ma inverso non c'è anche richiudi al fianco di Toriello e strappo col presidente del partito in corsa per un nuovo inizio lasciamo le pagine della politica andiamo ora sullo sport apriamo l'ampia pagina sportiva partendo dal Napoli ieri la vittoria in Serie A un grande gol di Higuain che chiude i conti e porta il giocatore del Napoli in testa alla classifica dei cannonieri della Serie A vediamo Higuain no limits nel mirino scudetto e trono dei bomber via la stanchezza dopo l'Argentina trascina il Napoli il capo cannoniere 10 reti nelle prime 13 partite di campionato vincolato fino al 2018 nei prossimi mesi l'incontro con il club per il rinnovo e intanto si pensa già alla prossima gara di lunedì 30 novembre Inter al San Paolo il 60.000 per il match scudetto lasciamo questa pagina lasciamo il Napoli andiamo sulla Salernitana dopo il pareggio della gara di sabato vediamo Salernitana il boom di Donnarumma cambia volto a Egranata bocciato il 4-4-2 che fallì a Crotone il mister pensa al 4-3-1-2 le scelte tre quartiste ipotesi gabbionetto ma Chaudone scalpite il brasiliano ora rischia andiamo avanti andiamo torrente ha promesso il bomber sarà attitolare proprio pronto un nuovo modulo un posto apposta per lui ci sarà l'ha detto Vincenzo Torrente dopo la gara di Latina lasciamo anche la Salernitana andiamo ora invece a vedere i risultati delle gare di eccellenza e promozione dove sono impegnate le squadre del Vallo di Diano Valdianese e Sassano partiamo con l'eccellenza i risultati del girone B Nocera Massalubrense 2-0 Mariglianese Castel San Giorgio 2-1 Montesarchio Oeste Scafatese 2-1 Palmese Sorrento 1-1 Sant'Omaso e Valdiano è stata sospesa quindi presto conosceremo la data del recupero San Vito Positano e Bolitana 1-0 Scafatese 1922 Faiano 0-1 Sorrento Calcio Sant'Antonio Abate 1-2 Andiamo invece a vedere i risultati della promozione impegnato che vede impegnato il Sassano nel girone di Costa Mafi Canalonga 0-2 Giffonese Sassano 4-1 quindi brutta sconfitta per i ragazzi del Vallo di Diano Olympic Salerno Picciola 1-2 Pandola Calpaccio 2-0 Polisportiva Santa Maria Salerno Baronissi 3-0 Poseidon Buccino è stata sospesa Real Versano Vigor Castellabate 0-0 Real Ponte Cagnano Temeraria 3-0 La classifica Polisportiva Santa Maria 28 Picciola 23 Baronissi 19 insieme a Real Ponte Cagnano e Cannalonga Pandola 18 Temeraria Giffonese 17 Calpazio 14 Poseidon 13 Costa Malfi 12 Real Versano 10 Buccino 9 Sassano 7 Olympic Salerno e Vigor Castellabate chiudono a 6 punti E con lo sport ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa che apriamo con la prima pagina della città vediamo il titolo per la cronaca camuffata la morte sul cantiere nuova pista per il caso di via allende riesumata la salma dell'operaio nella fotonotizia all'inchiesta le mani dei clan sul mercato ittico chiesti 19 arresti l'antimafia indaga sul controllo del mercato ittico da parte dei clan stabiesi e poi la mobilità treni e bus patto tra sindaci SOS alla regione da Cava e dalle due e non c'era servizi KO le notizie di fondo la politica PD Landolfi a Guerini la segreteria va rivista la nuova segreteria regionale va rivista lo scrive il segretario provinciale del PD Nicola Landolfi in una lettera inviata al vice segretario nazionale Guerini e ancora verso il voto Movimento 5 Stelle sfida 2 Pisano scelta dopo la sentenza De Luca sfida 2 per il candidato a sindaco di Movimento 5 Stelle per Salerno ma la scelta non avverrà prima della sentenza su De Luca lo sostiene il parlamentare Pisano continuiamo di spalla a Sarno musulmani vanno in piazza insieme ai frati e poi a Pagani forum giovani nelle liste i figli dei big politici le notizie in alto luci d'artista boom di visitatori ma mancano i servizi dove sono i bagni e ancora la movida notte da sballo ricoverati tre ragazzi per abuso di alcol e droga ricoverati all'ospedale di Salerno tre ragazzi di Baronissi mentre a Monte Corvino Rovella molestò una bimba di otto anni torna in cella abusò sessualmente di una bimba di otto anni sua familiare torna in cella di taglio basso si chiude questa prima pagina della città con lo sport per la salernitana Donnarumma conquistato torrente la salernitana cambia modulo per poter dare più spazio al bomber mentre in serie D la cavese spietata con il Rende la cavese difende il primato vincendo sul campo del Rende lasciamo la prima pagina della città andiamo a sfogliare le cronache il titolo di apertura l'albero della cuccagna es proprio cupasiglia due milioni e mezzo stanziati dal comune per 20.000 piante ma dalla relazione dei tecnici della provincia sono appena 1.200 valore 46.000 euro l'inchiesta sul termo valorizzatore oltre all'indagine della procura di Salerno anche quella della corte dei conti che vuole vederci chiaro andiamo avanti De Filippis lascia e annuncia presto la cittadella giudiziaria il presidente del tribunale pronte le tre palazzine ma procure e corte d'appello dovranno attendere e ancora viaggio nel mondo dei 5 stelle Borrasi e la filosofia orientale conosciamo da vicino i candidati al consiglio comunale l'avvocato chiede più attenzione per la zona orientale di spalla premio Giorgetti il violinista Cardaropoli trionfa a Milano a centro pagina la paganese vittoriosa Melfi in serie D Cavese-Corsara Agropoli-KO il cittadino c'era a corso in classifica sul Sorrento per le Salernitane una buona domenica per tutte o quasi in Lega Pro ottima vittoria della paganese che fa il blitz a Melfi e vince una bella partita in serie D la Cavese soffrendo solo nel finale vince a Rende difende bene il primato area di crisi invece ad Agropoli dove si registra ancora una sconfitta mentre inizia bene il nuovo corso della Gelbison lasciamo lo sport andiamo a battipaglia la rivolta dei preti nessun sostegno ai candidati mentre a Pompei gli insegnanti delle scuole e del santuario avranno la tredicesima pagata a rate questa è la prima pagina di Le Cronache andiamo nelle pagine interne vediamo il titolo per quanto riguarda la notizia che abbiamo visto ora in prima pagina battipaglia i parroci nessuna sfida nessun favore ai politici la presa di posizione ufficiale tesa a far chiarezza in vista delle elezioni comunali insomma i preti battipagliesi scaricano l'associazione cristiana sulla tua parola il comunicato letto a messa ieri a Battipaglia l'incontro con Monsignor Moretti non resusciterà il ADC in ballo un assessorato del presunto appoggio che il gruppo di ispirazione cattolica assicurerebbe ad un candidato a sindaco a Monte Corvino e Rovelle invece atti sessuali su una bambina arrestato un 46 anni anche questa notizia l'abbiamo vista nella prima pagina di Le Cronache ad Oliveto Citra è morto improvvisamente Gianfranco Cimmino presidente del Sele d'Oro il dolore del sindaco Pignata tutti abbiamo perso un grande amico e poi a Sapri ma anche nel Vallo di Diano a Sala Consilina a sabato le celebrazioni per la Virgo Fidelis vediamo la solenne celebrazione religiosa in onore della Virgo Fidelis la patrona dell'arma dei carabinieri della cerimonia ufficiata dal vescovo Monsignor Antonio De Luca i carabinieri della compagnia di Sapri con in testa il comandante il tenente Michele Zitiello rendono omaggio alla loro patrona la Virgo Fidelis appellativo dato a Maria madre di Gesù eletta patrona dell'arma dei carabinieri nel 1949 da Papa Pio XII presenti le massime cariche militari civili e religiose del Golfo di Policastro le giacche nere del Golfo di Policastro sabato 21 si sono radunate a Torraca piccolo paese montano della popolazione nella splendida cornice della chiesa di stile settecentesco San Pietro Apostolo alle 11 è stata ufficiata la Santa Messa celebrata da Monsignor Antonio De Luca vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e lasciamo le pagine di Lecrona che andiamo ora invece a sfogliare il quotidiano Metropolis dalla prima pagina notte da sballo tre in ospedale abuso di superalcolici ventenni di baronissi soccorsi davanti ad una discoteca di Salerno l'allarme aspettano che ci scappi il morto si indaga sull'accoltellamento del quindicenne Ancora Salerno mani sul porto in cella la regia del boss d'Alessandro in carcere ad Agrigento parlava degli affari con i familiari sempre Salerno per la politica però comunale fibrillazione tra i deluchiani temuta la candidatura di De Luca Junior segreteria Landolfi scrive a Guerini a Scafati invece la pazzedea di Aliberti sindaco di Poggio Marino i consiglieri vesuviani lo corteggiano è la persona giusta con lui si vince mentre a Sarno musulmani in piazza l'Islam invoca la pace hanno usato Allah per far guerra a Scafati una partita per Mohamed e a Battipaglia l'affondo dei parroci estranei alla politica andiamo nelle notizie di sport di spalla rinascita salernitana donna rumma gol prenota una maglia in Lega Pro Paganese Sorriso a Melfi Carcione regala i tre punti in Serie D Cavese altra prova di forza blindato il primato arrende mentre per l'eccellenza il Nocera riprende la marcia Scafatese stop alla rincorsa altri sport il basket di Serie A2 riscatto Scafati con Rieti Givova e Agropoli in vetta questa è la prima pagina di Metropolis andiamo avanti andiamo nelle pagine successive per quanto riguarda le notizie in primo piano parliamo della politica delle elezioni comunali a Salerno vediamo il titolo di apertura per questa pagina liste De Lucchiani in fibrillazione una parte dei fedelissimi del governatore preoccupata per la possibile candidatura di De Luca Junior dibattito in corso pure sul numero di assessori da schierare in campo alle prossime amministrative e intanto arriva l'appello di Nicola Landolfi Landolfi scrive a Guerini lettera del segretario provinciale PD al vice di Matteo Renzi Benevento e Avellino non sono rappresentate in segreteria continuiamo per il centrodestra dei progetti Forza Italia annuncia i primi risultati di taglio basso la riunione prestazioni dei comunali criteri in commissione e poi l'HRL inquinamento polemica sul sit-in residenti e attivisti contestano la manifestazione di noi salvini Lasciamo le pagine di Metropolis chiudiamo questa rassegna stampa la rassegna stampa di oggi con le notizie provenienti dalla Basilicata che troverete sulla Nuova del Sud vediamo quindi dalla prima pagina di La Nuova del Sud quali sono i principali temi trattati il titolo di apertura scrivo dalla Siria dammi i soldi il terrore corre anche sui social network la storia di un nostro lettore minacciato su Facebook prima la richiesta di amicizia poi un video falso e la richiesta di denaro mi servono i soldi per un biglietto per l'Italia andiamo avanti a centro pagina 90 secondi di terrore 35 anni fa il terremoto che devastò la Basilicata a Potenza si consegnano gli alloggi e ancora errori e sprechi quel che resta del sisma dell'80 il terremoto che colpì ampiamente anche il nostro territorio di cui anche qui si commemorano i 35 anni da quei tragici eventi andiamo avanti andiamo di spalla tragedia a Nemoli muore stroncato da un infarto durante una gara di calcio over 35 e ancora abbordate di legambiente alla politica la regione si è seduta sul petrolio continuiamo dopo il sincomissione il consiglio approva in prima lettura lo statuto è sempre di spalla andiamo a Potenza dopo tante polemiche il leone rampante cambia sede per lo sport Lega Pro un bagliore di luce per il Matera pari con Lecce in serie D Potenza Super col Taranto e Picerno e Francavilla KO in Lega Pro Melfi ancora sconfitto e Palumbo torna in discussione per l'eccellenza discorso per il primato si rinvia dopo il pari del Metapontino e in basket di serie A2 la Bauer Matera non si rialza Legnano e spugna il Palasassi con questa prima pagina di La Nuova del Sud termina la nostra segna stampa vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti e una buona giornata grazie per averci seguito